Il giorno e la storia Oggi è il 7 dicembre 1941, attacco giapponese a Pearl Harbor 1863, nasce Pietro Mascagni 1979, le Brigate Rosse uccidono il maresciallo Romiti Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del giornale di Brescia Trent'anni fa lo storico faccia a faccia fra Mikhail Gorbachev e Ronald Reagan Un confronto che ha cambiato la percezione del mondo Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!